Sì, ok. Che si mangia oggi? Schiacciata. Schiacciata? Bene, bene, bene. Che schiacciata vuoi? Bresola? No, non abbiamo un bresola. Capocollo, pinocchiona, sferno, salami, prosciutto, pancetta, porchetta, mortadella. Mortadella, perfetto. Meio. No, non abbiamo meio. Questo, cosa è? Ci sono solo cose grandi. Che è questo? Questo è il sunrise to meio. No, no, questo. Questo? Pecorino. Oh, sì. Pecorino. Ma la mortadella va bene con... No, ok. So, what? Pecorino? Pecorino? Ok. Pecorino mortadella. Ok. So, here we are. We have all our meats. Which we take away just for the few hours that we are using them. These are the ones we're ready to slice. This is a porchetta. It's in-house made. It's made down in the basement. it's pork roasted pork wrapped all around herbs and spiced up and the oven roasted and it's delicious of course with italian recipe um this is pancetta this is pancetta toscana it's like a bacon like a bacon but can be eaten raw sliced up like a ham um this is capocollo okay this we we find in all regions of italy with different names also ciao this is toscan uh prosciutto prosciutto toscano dop okay and this is pecorino toscano this is a hard uh aged cheese like uh six nine months aged pecorino cheese and this is uh fennel uh salami okay very soft also particular of tuscany and uh this is turkey for people who want to change because we have all four so turkey we did like a special edition sandwiches during transgiving with turkey and sweet potatoes and cranberries and we have it here ready for who wants it let me see it oh no and this is a mortadella okay so C'è una paradiso? C'è una paradiso, una molto classica italiana combinazione con pistachio spread che è made in the house, tutti i nostri spread sono made in the house Sracciatella, che è praticamente l'inside della burrata e una piccola pistachio grannaldi e, show them, bring it to me e mortadella, ok, pistachio mortadella in Italia è molto grande è stato come un'attività in florence e è stato molto popolare e, so, for you, what do you have? Also paradiso Also paradiso, for you ma'am Buon appetito Do you want to eat it here or to go? To go To go To go Ok Here it comes Il McFly E ci è forte Ok Secondo La vai bene Ma questa è solo per lei No, la dividiamo gli altri La dividete? E allora, va bene, va bene così Va bene così, sì va bene così Allora, prosciutto, prosciutto bello abbondante, allora scelchiamo crema di carciofo, ok, qua, this is a custom made one, artichoke cream in the house, ok, spicy eggplants grilled, ok, and zucchine, ok, frugola ce la metterei per ammazzare, grazie, grazie, prego, questa è a custom made one, aspetta aspetta, mmm, ok, ok, this is where they want to cut it out, this is where they want to cut it out, so we we'll do the boss, we'll do the boss, ok, we'll cut, nice, truffle cream, ok, now this smells so good, this is what we need to cut it out, we'll cut, nice, truffle cream, ok, now this smells so good, this is what we need to cut it out, tutto toscano, eop, yep, ok, 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 ecco, ok, 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 Sì certo. Ciao, dimmi. Una danza è un inferno. Una danza è un inferno? Sì, sì. Ti mangiare qua ragazzi? No ragazzi. Allora avete incartato frutta da mangiare? Sì, sì. Perfetto. Ecco qua. Vado ancora fuma! Tommy, mi perdonerai il pozzo a cento. Ok, ecco qua. Aspetta, facciamo prima le basi, vai. Anduja. Anduja, spicy sauce. Eggplant, grilled. Grilled zucchini. Vieni qua giù, vieni qua giù. Ok. E la rucola. Un po' di olio extravergine qua. E questa. E questa. Il pericolo e il pericolo. Sobe. Un piccolo. Decito. Un piccolo. Un piccolo. Cell. Sobe. Un piccolo. Un piccolo. l'altro è detto? Dante con stracchino stracchino bello, strammabile crema di tartufo truffle sauce un tocco di grina rucola immancabile l'olio ex virgin e questa va con un bellissimo capo collo un bel 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 capo collo il parzanico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.